Riprendiamo da dove ci eravamo fermati con Andrea Ventura, la domanda secca era questa, in termini economici sul bilancio familiare, il teleriscaldamento, quanto risparmio porta in tasca le famiglie di Cavalese rispetto al gasolio o al metano? Guardi, è molto semplice fare il confronto rispetto al gasolio perché il gasolio sta decollando letteralmente perché segue il prezzo del petrolio, noi siamo circa il 30% più convenienti rispetto alla stessa quantità di energia fornita con il gasolio da riscaldamento e circa il 15-20% dipende dalle fasce di consumo rispetto al gas metano, però questo confronto è un confronto non corretto perché non possiamo confrontare due energie diverse, se io compro il combustibile gasolio devo poi comprare anche la caldaia e bruciarlo per produrmi il calore, con il teleriscaldamento io non ho più la caldaia perché la caldaia la mette la centrale, quindi io vendo non combustibile ma vendo energia, vendo calore, quindi evito la combustione, evito l'emissione inquinante in atmosfera, evito il rischio scoppio, genero tutta una serie di vantaggi, non ultimo quello di una maggiore sicurezza, che hanno un valore e questo valore non può essere ridotto semplicemente ad un euro in più, ad un euro in meno, deve essere pesato. Avete dovuto sopportare il costo della rete di distribuzione? Che è il costo più rilevante, che è il costo più significativo, soprattutto in territori come quelli dei nostri paesi, dove c'è un'attenzione particolare all'area d'urbano, dove le strade sono strette, dove i sottoservizi si accavallano e quindi dove ci sono una serie di problematiche che vanno sviluppate e soltanto attraverso la collaborazione con il comune o con i comuni è possibile sviluppare con successo. Abbiamo sentito col teleriscaldamento si risparmia in bolletta un 30% rispetto al gasolio, un 15-20% rispetto al metano, in più non c'è il costo della caldaia, perché dunque Franco Loretz in Val di Fassa, sei comuni su sette ad esclusione di Canazzei hanno scelto il metano e solo Canazzei, per ora a livello di ipotesi il teleriscaldamento? Una scelta politica fatta ormai anni fa che probabilmente in condizioni di allora era forse più condivisibile, sicuramente il gas metano aveva un incidenza di costo nella produzione dell'energia inferiore rispetto a quella di adesso, la rete di distribuzione veniva curata poi da chi effettivamente avrebbe provveduto a vendere successivamente il metano, per cui forse è stata una scelta fatta per delle esigenze anche diciamo di minore complessità poi nella gestione, mi spiego, sicuramente pensare di fare delle centrali di teleriscaldamento nei paesi con il problema poi della creazione delle reti di distribuzione e quant'altro era sicuramente più oneroso e probabilmente era anche meno facile, forse è stata fatta questa scelta proprio perché le condizioni non erano così diciamo distanti a quel tempo e forse erano anche quelle che davano delle garanzie di immediatezza che la scelta del teleriscaldamento non avrebbe dato. Insomma guardando indietro quasi un mezzo passo falso rispetto a quello che ad esempio poi si vede è successo in Val di Fiemme, è così? Ma forse una piccola recriminazione ci può essere se guardiamo anche, prendiamo ad esempio l'Alto Adige, esistono tantissimi comuni che sono muniti delle loro centrali di teleriscaldamento che utilizzano gran parte biomasse e in parte utilizzano anche il fossile e probabilmente se si potesse tornare indietro credo che forse la scelta non sarebbe più quella del metano. Diceva tuttavia Talmon prima in Val di Fassa il teleriscaldamento non può funzionare, perché? Perché la materia prima è troppo gustosa, prima roba. Seconda roba, come diceva appena adesso lo sessore, bisogna rivoluzionare tutto il paese, scavino, scavi, rifare, getti, c'è molti conteggi. Canazzei però ce l'ha nel cuore questo progetto, anche l'amministrazione nuova. È ben mirato perché c'è nel cuore, è ben mirato. Perché? Non voglio polemizzare ma è ben mirato. Lei basta vedere cosa stanno costruendo il vicino. Comunque lasciamo perdere queste cose qui, che non è il momento di discuterle. Io vorrei chiedere una domanda al segretario di Cavalese. Siamo però a discutere di questo a fin dei conti. Ah scusa, scusa, sui costi. Perché non va bene il teleriscaldamento? Perché non va bene a Canazzei, quindi Canazzei sbaglia se adotta questa strada. No, non va bene a Canazzei perché i costi sono troppo costi onerosi. Come mai non li fanno in privato? Perché non li viene fuori niente. È comodo un ente pubblico farlo? Tanto paga i comuni, con le tasse i comuni, costi qui, costi lì, debiti, non debiti, poi dell'utile non ce ne sarà mai in quelli in cui i consorzi lì. Allora noi cosa diamo al comune se ad opera che l'uomo produca per pagare le tasse, per avere giro di soldi? Quelli sono enti che abbatteranno il CO2, per carità. A Cavalese può andare bene perché a loro non ha il prodotto, perché se manca la materia prima, che uno deve acquistarla e c'è poco al mercato, non ha più senso fare quel lavoro lì. A noi ha senso avere linee potenti in Val di Farsa e con l'energia. Perché a conti fatti, anche le cucine, gli alberghi, i boiler, conviene far andare elettrico il giorno d'oggi perché c'è una tecnologia talmente avanzata che è eccezionale. Qui, se capisco bene, secondo lei a Canazzei, in Val di Farsa in generale mancano quei cippati, quei residui delle lavorazioni del legno che invece ci sono in Val di Fiemme e che rendono economicamente conveniente l'installazione di impianti termoriscaldati. È completamente un altro discorso. Quello di Fiemme l'ho preso per carità. Già vede Predazzo che ha fatto il riscaldamento. Vado a vedere i bilanci. È un disastro. E allora l'amministrazione di Canazzei che sta per intraprendere, o ha intrapreso questa strada, cosa bisogna dire? La sta intraprendendo, ma non si preoccupi che oggi come oggi credo che anche chi deve dare i contributi ci pensi sopra tre volte. Poi è sempre possibile fare referendum dimostrando. Perché li fanno, dicono, a cippato. Prendono il contributo a cippato. Che sono soldi rubati qui. Poi li fanno andare a gas. Se il gas a Trento produce un kilowatt, per esempio, a Canazzei produce 20% di meno. Perché le stazioni di pompaggio, per pompare devo buttare dentro anche le parti di aria. Allora arriva già con... se lei fa quei calcoli del 20%, già se ne accorgi che con l'utile che te avresti del guadagno dell'energia non c'è più. Io le faccio un esempio. Val di Sole. Vi ho parlato con tanti della Val di Sole. Adesso dicono, guarda, una gran stupidata, perché noi a gas abbiamo fatto i conti che alla fine, alla fine, siccome ne va ancora a tenerci il nostro gasolio, alla fine, della Sagra. Quei fattori lì. Poi, avendo il gas anche in certe stazioni, non è tanto tranquillo. E allora io direi... parlo per la Val di Fassa, eh? Per carità. Certo, ma... La Val di Fassa per me è la cosa importantissima che i sindaci e l'agente politica deve pensare a una linea potente. Noi adoperiamo le 120.000. Quello è il più gran passo che fa per l'economia, per il risparmio dei ciasciti. Perché non prendono più l'energia a 3,40, ma la prendono da 3,80, rendono meglio i motori e sicuramente è molto, molto più funzionale. Ecco, avere questa linea di cui parla Talmon, Tomasi, innanzitutto, è d'accordo? Potrebbe essere una soluzione a livello politico e che vantaggi poi dopo anche spiegati e declinati in un linguaggio magari comprensibile ai cittadini potrebbe portare? Beh, direi che prima di tutto la necessità di costruire una linea a 130.000 volt è abbastanza impellente per il fatto che nell'Alta Val di Fassa ci sono dei consumi molto elevati di energia per cui soprattutto in periodi invernali ci sono notevoli cali di tensione dovuti agli assorbimenti. Hanno già tamponato in parte costruendo un trasformatore di regolazione della tensione a Campitello che però, diciamo, non può fare i miracoli. Bisogna tenere presente che è un investimento molto elevato perché si parla di circa un milione di euro al chilometro e una cabina primaria a 130.000 volt che andrà necessariamente fatta in zona Campitello può avere un costo, diciamo, tra il milione e mezzo e due milioni di euro. Comunque penso che sia uno dei passi indispensabili che l'attuale fornitore di energia elettrica, anzi distributore di energia elettrica e l'asset dovrà fare. E il Comun General de Fassa su questo? Il Comun General de Fassa credo che sia aperto a trovare delle soluzioni migliori che possano consentire poi l'utilizzo dell'energia e soprattutto il benessere dei cittadini massimo. Se dal punto di vista tecnico sarà opportuno effettuare questo tipo di intervento e ci sarà la necessità che dal punto di vista politico ci sia un interessamento per prendere una posizione importante in questo senso, non credo che il Comun General de Fassa si tirerà indietro e credo che anzi si farà promotore di questa necessità nelle opportune sedi. Sicuramente credo che il discorso principale che dobbiamo fare perché credo che sia poi alla base anche della serata di oggi è capire se dobbiamo investire di più in queste fonti rinnovabili in Val di Fassa compatibilmente con le strutture che abbiamo, nel senso che io credo che dobbiamo cercare di fare quanto possibile per affrancarci da questo problema energetico sicuramente e compatibilmente con i nostri consumi dovremo avere anche le reti idonee per poter diciamo avere un utilizzo ottimale della rete e dell'energia. Nell'accordo di programma che siglerete con la provincia di Trento come Comun General, l'energia come rientra? Diciamo che nell'accordo di programma che stiamo in questo momento, che stiamo facendo in questo momento con la provincia, per quanto riguarda l'energia, la volontà è stata quella anzitutto di andare verso il concetto di risparmio soprattutto negli edifici, ovvero stiamo cercando di fare un piano per diciamo di risparmio energetico per quanto riguarda gli edifici di tutti gli enti pubblici compreso anche il Comune General perché riteniamo che probabilmente questo investimento, questo primo passo potrebbe poi essere anche quello che ti consente effettivamente di consumare meno energia e di conseguenza di in parte affrancarti dal punto di vista energetico. Per quanto riguarda il discorso delle linee non è stato affrontato ma potrebbe essere siccome il diciamo che questo accordo è un accordo che può essere modificato e può essere diciamo migliorato nel proseguo potrebbe essere sicuramente una delle parti che magari andremo a concordare o a verificare qualora come mi pare ci sia questo tipo di necessità, andremo a concordare con la provincia eventualmente la possibilità di realizzare questa infrastruttura. Solo gli edifici pubblici in Val di Fassa consumano 900 mila litri all'anno di gasolio, una spesa che si aggira sul milione di euro, come si può abbattere o quantomeno ridurre? Ma sappiamo benissimo che un abbattimento importantissimo sia ad esempio con la riqualificazione energetica degli edifici per cui parliamo degli interventi che dal punto di vista urbanistico consistono nel capotto, nell'isolazione, nella sostituzione delle finestre, nell'isolamento del tetto. Diciamo la parte fondamentale dell'attività per quanto riguarda risparmio energetico negli edifici deve essere quella nel creare un involucro, una scatola che sia a minor consumo energetico possibile. Un buon edificio a risparmio energetico, vediamo gli esempi che ci sono in categoria A più, fanno consumare un decimo del gasolio rispetto ad edifici che hanno un'efficienza non buona dal punto di vista energetico, per cui se parliamo di energia termica parliamo di consumare diciamo 300 litri di gasolio invece di consumarne 3.000 insomma, per cui credo che sia un investimento importante non solo dal punto di vista poi del consumo ma proprio anche dal punto di vista ambientale. Prima della seconda pausa, una battuta flash con Andrea Ventura, voi di Bioenergia un impianto di teleriscaldamento a Canazzei lo fareste o no? Ma guardi... Sulla base anche di quanto diceva Talmon poc'anzi. Il tema non è l'impianto di teleriscaldamento, il tema è come alimentare un impianto di teleriscaldamento. Il teleriscaldamento è uno strumento per portare a distanza il calore e questa infrastruttura è un'infrastruttura che ha un costo e può essere naturalmente realizzata soltanto se c'è una dimensione, cioè se c'è un paese, una cittadina sottesa a questa rete in grado di prelevare un'elevata quantità di calore perché costa molto questa infrastruttura. Poi c'è il tema dell'alimentazione. Canazzei è certamente un paese che ha una dimensione interessante da questo punto di vista perché ci sono molti alberghi, perché c'è un comparto turistico molto rilevante e perché ovviamente è posizionata una quota altimetrica dal punto di vista delle temperature invernali importante. Certo ha ragione Talmon quando dice che il combustibile non può essere il cipato e non lo può essere perché non si può pensare di realizzare impianti a biomassa ovunque e a qualunque costo. Il cipato deve essere prodotto da una filiera locale, la filiera bosco, legno, energia e questa filiera non può portarci ad una situazione dove si arriva all'importazione della biomassa da distanze elevatissime pur di alimentare, pur di sostenere che i nostri impianti funzionano a biomassa, cipato, fonte rinnovabili. Ma è d'accordo sul fatto che Canazzei dovrebbe importare, non avrebbe risorse proprie per alimentarlo oppure non è una vostra zona di competenza? Io penso che il Trentino orientale, quindi mettendo in mente la Val di Fassa, la Val di Fiemme e anche il Primiero, oggi sia saturo e anche la Val Sugana sia saturo di centrali a biomassa perché la centrale di Primiero, la centrale di San Martino, la centrale di Predazzo, la centrale di Cavalese assorbono forse anche qualcosa di più di quella che è la capacità produttiva di biomassa del nostro territorio. Quindi la realizzazione di un impianto di terrescaldamento a biomassa a Canazzei può presentare delle problematicità. Non è detto che non si possa ragionare su un impianto misto e cioè alimentato parzialmente a biomassa e in modo altrettanto insomma importante utilizzando il gas metano che è comunque a Campitello. Queste però sono valutazioni tecniche che vanno fatte con conti alla mano, certamente Bioenergia è sempre interessata allo sviluppo del teleriscaldamento e lo sarebbe anche a Canazzei. Grazie per questo punto di vista, ora ci fermiamo un attimo per una seconda pausa pubblicitaria e poi rientriamo ancora con l'ultima parte di De Faci De Fassa.